Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della nuova Jackal 2 di Casa La Sportiva, la scarpa di La Sportiva dedicata alle ultradistanze di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno della scensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questa Jackal 2. Iniziando dalla suola, troviamo una suola Frixion Red di Casa La Sportiva con un tassello alto 3.5 mm. Nell'intersuola troviamo un'eva con diverse densità più tecnologia infinito, tomaia in mesh e tutto questo per un peso di soli 275 grammi nella taglia 42. Adesso che non abbiamo visto le caratteristiche possiamo iniziare con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito parlando dalla suola di queste Jackal 2. In questo caso troviamo una suola Frixion Red. Sua Frixion di Casa La Sportiva, quella Red è quella che ha il miglior compromesso tra grip e durata nel tempo. Ma come lavora? Allora diciamo che sulla parte di asciutto non ha grossi problemi. Anche sulla roccia, almeno che non sia particolarmente unta, si riesce un pochino ad andare. Il vero limite è la parte di bagnato. Roccia bagnata non tengono per nulla. Invece fango, diciamo che sì, dai, se la difendono non hanno fatto sicuramente il miracolo in Casa La Sportiva. Però, vabbè, diciamo che ci può stare, dai, si difendono un po'. È una suola comunque che non si è usurata. Io sono fatto davvero tanti tanti chilometri anche su terreni particolarmente duri, dove la suola tende tendenzialmente a rovinarsi abbastanza. Devo dire che la suola è in ottime condizioni. Ha una piccola parte di intersuola esposto, però veramente minima, quindi non andrà particolarmente a rovinarsi. In sé, poi, mi piace la forma dei tasselli, con questi tasselli nella parte esterna in IBS, perché comunque gli danno un ottimo sostegno laterale nei punti in cui magari dobbiamo andare a fare qualche cambio di direzione o comunque nei punti in cui dobbiamo avere un po' di sostegno in più sulla traia del piede. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, la suola non è malaccio, soprattutto per quanto riguarda la parte di asciutto. Passiamo ora alla parte dell'intersuola. Qui troviamo un'intersuola in neva, a diverse densità. Troviamo una parte più morbida per quanto riguarda il cushioning. Troviamo invece una parte ad alta densità per quanto riguarda la protezione dalle rocce. Cosa vuol dire? Dalle rocce la protegge molto bene. Io davvero l'ho utilizzata su dei terreni abbastanza tecnici e comunque non si sentono le rocce, almeno che non andate a prendere proprio lo spuntone singolo bello duro. Quindi, veramente molto bene. Cushioning ce n'è abbastanza, soprattutto anche per fare delle distanze abbastanza lunghe e la tecnologia Infinito gli dà una buona reattività. Devo dire che con questa scarpa si riesce a correre tranquillamente anche a 4,30, un pochino meno anche al chilometro. Quindi, sicuramente una scarpa con quale poter esprimere anche un certo tipo di potenza e andare a una buona velocità. Continuando, passiamo a parlare dalla parte superiore alla tomaia. Per quanto riguarda il puntale, trovi un puntale abbastanza rigido. Roba che se prendiamo dentro una roccia o una radice non sentiamo particolarmente dolore, quindi sicuramente una buona protezione. Mi piace poi questa tomaia perché vi assicuro è veramente traspirante, ma davvero tanto, tanto traspirante. Cioè, se avrete modo di andare a guardarla o comprarla, vi accorgerete che veramente ci si vede benissimo attraverso, quindi una tomaia super traspirante. Io ci ho bagnato i piedi in alcuni ruscelli, ma nell'arco di 300 metri dopo che l'hai bagnato il piede è già completamente asciutto. Quindi veramente una tomaia che mi ha stupito tanto per la sua traspirabilità. Ah, poi a tutta la parte laterale con rinforzi in nylon, per evitare sia strappi, ma soprattutto anche per darci un certo tipo di sostegno, anche se il sostegno è abbastanza minimo, perché comunque è una scarpa che, per quanto riguarda sostegno laterale, veramente aiuta ben poco. Soprattutto poi, se ci dovreste prendere dentro qualche roccia sul laterale del piede, quello lo sentite abbastanza. Però vi assicuro, a livello di traspirabilità, davvero, tanta tanta roba. Una scarpa del genere, utilizzata anche d'estate, a temperature molto, molto, molto calde, non vi farà sudare particolarmente il piede. Continuando, passiamo a parlare della parte del tallone. Tallone riprogettato per queste giacca al 2. Un tallone abbastanza strutturato nella parte inferiore, per darci comunque un po' il sostegno. E soprattutto, nella parte inferiore, va molto ad ammorbidirsi. Un pochino più contenitivo rispetto alla versione precedente. E ha comunque una buona parte anche di imbottitura, per aiutarci un po' quando corriamo con il piede laterale. Quindi, un tallone che a me sinceramente è piaciuto. Complice poi la parte di intersuola, che è a doppia densità, con una parte un pochino più durina, diciamo che è difficile prenderci storte. Io con questa scarpa, davvero, anche su terreno particolarmente tecnico, non ho avuto problemi di storte. Penso comunque che, avendo anche un'altezza dell'intersuola, che non è eccessivo, sia una scarpa dove davvero è abbastanza difficile prendere una storta. Per quanto riguarda linguetta e lacci, una linguetta di tipo racing, abbastanza imbottita, comunque c'è un po' di imbottitura, anche se l'imbottitura non finisce proprio in basso, è abbastanza alta, e io ammetto che, andando a stringere parecchio, la pressione dei lacci si sente. Avrei preferito una linguetta un pochino più imbottita, perché, soprattutto in discesa, sento un po' la pressione dei lacci. Lacci, per il resto, classici, fatti bene, nulla da dire, quindi, da questo punto di vista, i lacci tranquilli, vanno bene. Per quanto riguarda la soletta interna, soletta Ortolite, io con Ortolite mi ci sono sempre trovato bene, anche in questo caso, riconfermo, davvero, si può sostituire, ma io non la cambierei, perché mi ci sono trovato bene. Per quanto riguarda la calzata, essendo una scarpa pensata per le ultra, nell'avampiede, abbiamo un qualche millimetro in più, per quando il piede va, naturalmente, ad aumentare le dimensioni, quando corriamo per tante ore. Diciamo che, secondo me, questa è una scarpa con la quale potreste prendere il vostro solito numero con cui siete abituati della sportiva, non c'è bisogno di prendere mezza taglia in più, mezza taglia in meno, è pensato abbastanza bene, diciamo, dal punto di vista veramente della calzata, può essere vista come una scarpa molto tradizionale. Ma per quale atleta consiglio queste giacche al 2? Allora, diciamo un atleta di media alta classifica, un atleta che, innanzitutto, riesce a spingere a una buona corsa e quindi riesce a sfruttare anche questa tecnologia infinito messa nell'intersuola che ci garantisce comunque una buona reattività. Un atleta anche che ha anche una buona tecnica di corsa perché, come vi dicevo, il sostegno laterale è abbastanza minimo. Diciamo, un atleta sì, uno che corre, uno che va. Non la consiglierei tanto a un principiante perché magari un principiante cammina un po' di più e penso che ci siano delle scarpe per chi cammina tanto che vadano decisamente meglio. Quindi sì, diciamo un atleta meglio evoluto. Su che sentieri andrei a utilizzarle? Diciamo tutti, tranne l'alta montagna. Non è sicuramente una scarpa con quale fare delle sky race, con quale fare dei passaggi ad alta quota. Va bene soprattutto magari per quelle gare che hanno diversi tipi di terreno dove si può passare dal fondo valle al single track, magari a qualche tratti un pochino tecnici con qualche roccetta, con qualche passaggio in mezzo alle radici. Però, attenzione, evitate quello che è il bagnato perché lì davvero si scivola parecchio. Arriviamo alle conclusioni per queste giacche al 2. Ve le consiglio? Sì, io mi ci sono trovato abbastanza bene. Online, la sportiva sul loro sito si trova a 175, in giro stanno già sui 150. Io personalmente ve le consiglio. Per me è una buona evoluzione rispetto alle giacche di qualche anno fa. È una buona scarpa alla fine, davvero molto classica, la sportiva non ha voluto stravolgerla più di tanto, però io davvero mi ci sono trovato bene. Quindi sì, questo giacca al 2 ve le consiglio. Detto ciò, ragazzi, una speranza di essere stato esaurente e esauristivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!